Com'è l'esplosione? No, no, può durare anche conoscere, perché se poi si toglie... No, voglio dire... Quello palestrale fa... Comunque le espressioni che vanno sono molte intese. È difficile fare delle espressioni di più intese. Non so, 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 non so. La birra è piccola? La coppa è inglesina? Scusate, la coppa è inglesina? Scusate, la coppa è inglesina? No, non so, non so, non so, non so, non so. Sono molto tese, queste sono tessite. Sono tessite, sono tessite. Non so, non so, non sono tessite. Oggi ho finito la tessite. E, ecco, vediamo. Non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so. Non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so, non so. Quando va con la palestrale. Ah, Milan 1, Parma 0, bene. Grazie.